Partiamo dall'ariete. Siete molto attivi e reattivi, perciò le piccole difficoltà della giornata non scalfiranno il vostro ottimismo e la voglia di realizzare i vostri progetti. Toro, siete in attesa di una risposta di lavoro che potrebbe tardare. Non disperate però perché ci sono ottime possibilità che sia positiva. In amore è il momento giusto per fare un passo importante. Gemelli, parole, 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 oggi sembra che tutto il mondo non sia in grado di offrirvi altro. Invece voi vorreste fatti concreti, dato che vi sentite mancare il terreno sotto i piedi a volte. Cancro, non lamentatevi se le cose non vanno come volete voi, perché siete comunque ben supportati dalle stelle. Soprattutto in amore, settore in cui potreste far fatica a raggiungere ancora il giusto equilibrio, ma ci arriverete. Leone, cercate di trovare un po' di serenità in voi stessi, altrimenti tra un po' rischiate di farvi il vuoto intorno. Gli amici possono comprendere i vostri stati d'animo, però voi non dovete mettere a dura prova la loro pazienza. Vergine, fate fatica a centrare i vostri obiettivi professionali in questo momento in cui il futuro potrebbe apparirvi un po' confuso. Perciò le stelle consigliano di stare fermi e di non muovere troppo le acque. Bilancia, c'è bisogno di fare un po' di ordine all'interno dei vostri pensieri. Sicuramente dovrete dare una priorità alle vostre scelte, altrimenti potreste perdere qualche treno molto vantaggioso. Le sicurezze sentimentali alla lunga vi pesano. Scorpione, le persone a volte non sono quello che sembrano. Per questo oggi rischiate di credere alle belle parole di qualcuno che vi fa più male che bene. Anche in amore non credete ciecamente a qualcuno conosciuto da poco. Sagittario, le idee non sono molto chiare, così potreste fare fatica a mettere a fuoco i vostri obiettivi. Sul lavoro rischiate di perdere una bella opportunità, mentre in amore ci sono alcune strade aperte. Capricorno, sotto un profilo affettivo si prevede una bella giornata all'insegna delle coccole e delle fantasie più audaci. Sul lavoro però evitate di assumere atteggiamenti poco lineari e concreti. Acquario, ogni tanto dovreste provare a spegnere la testa dato che corretti il rischio di fare cortocircuito. Troppi pensieri, troppi progetti, troppi lavori da iniziare. Pesci, l'amore richiede molte attenzioni durante questa giornata in cui vi sentite molto ben disposti nei confronti della vita a due. Invece sul lavoro potreste essere svogliati e poco disposti al compromesso e tutto ciò potrebbe rendere difficile la buona riuscita di un progetto che vi sta particolarmente a cuore. Grazie a tutti. Grazie a tutti.